Qual è il vero motivo di questa tua crisi? Cioè, dipende dalla fame o dal rapporto con gli altri naufraghi? No, no, dipende dal dolore al piede, dal dolore al piede, perché una volta che mi è stato tolto il tutore, mi è stata fatta una fasciatura stretta stretta con un materiale che si chiama tensoplast, che è tipo un gesso quando si solidifica nelle dita, solo che ci devo camminare tantissimo, tutto il giorno, per dare una mano, eccetera, e mi fa malissimo il piede la sera, la notte, non riesco a dormire. E poi è successo che mi è stato dato il permesso di entrare in acqua, io ero una settimana che non mi entravo in acqua, che non mi lavavo, che non mi sciacquavo, quindi mi sono finalmente sciacquata. Però i medici adesso dicono che, a parte il dolore, diciamo appunto puoi entrare in acqua, puoi deamplare, quindi insomma... No, no, entrando in acqua si ammorbidisce il tensoplast e quando esco, per esempio quando piangevo tantissimo, ho sofferto da morire, perché quando poi si è ristretto, le dita invece di essere così erano così. E poi...